Sono stato troppo tempo via da te, una valigia dentro E che dirvi, le sentirete di belle perché credo che sia il disco più bello su cui stiamo lavorando fino ad ora Sì, sia come sonorità, un nuovo sound, una bella cosa Cioè ragazzi spingete la musica, spingete le serate, spingete l'hip hop perché ci sta Volevo ringraziare anche BariFop Metro, tutto lo staff che stanno cercando comunque di unire questa città Rispetto Allora ragazzi, un'unica cosa, l'hip hop in questa città è sempre stato, ma è sempre stato sottoterra, nell'underground Cerchiamo di farlo emergere come è già successo nelle altre città italiane E spingiamo perché questo è l'anno in cui l'hip hop deve uscire, quindi tutti insieme con un'unica forza Se volete un mandarino, ok, Italia Ciao ragazzi Grazie Grazie Grazie